La Luparense e Latina, allora ecco qui, Luparense, numero tre, Gognano, numero quattro, Dallacà, un grande applauso per la Luparense. Buongiorno a tutti, benvenuti al Palabrivo di Bassano, la dodicesima giornata di Serie A. C'è proprio Luparense, 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 luparense. Luparense, 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 luparen Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!